ci troviamo a sassari oggi in regione la cruca la cruca è a due passi qua da dalipunti una bellissima zona che è stata lottizzata negli anni probabilmente 80 qua proponiamo un immobile in vendita che già da tempo si sta cercando di approcciare al mercato dell'acquirente e dire comprami comprami allora oggi quello che intendo fare è comunicarti che questa casa è comunque sempre in vendita vedrai delle immagini aeree che te la descriveranno la riconoscerai senz'altro ed è volontà della proprietà dare un'opportunità anche a te che stai cercando che magari non cerchi una casa né su quelle cifre dove ovviamente qualche investimento va fatto nella ristrutturazione di poterla acquistare solo in parte vedrai dalle foto aeree che c'è la possibilità di dividere questo immobile dando il vantaggio dell'ingresso principale dell'immobile della della proprietà con un pezzo di giardino con una casa che comunque andrebbe a soddisfare gli spazi di oggi una famiglia moderna necessita sempre Grazie a tutti i nostri spettatori e i nostri spettatori e i nostri spettatori e i nostri spettatori Grazie a tutti i nostri spettatori e i nostri spettatori e i nostri spettatori e i nostri spettatori Grazie a tutti i nostri spettatori e i nostri spettatori e i nostri spettatori e i nostri spettatori Grazie a tutti i nostri spettatori e i nostri spettatori e i nostri spettatori